Sul Gran Sasso proseguono le ricerche dello studente Erasmus della Facoltà di Scienze Forestali di Padova, scomparso durante un'escursione in solitaria. Lewin Wetushat è il nome dello studente tedesco che si sta cercando tra Monte Camicia e Monte Corvo. Di lui non si hanno più tracce, da quel che si sa, dallo scorso 9 agosto, quando avrebbe mandato una foto alla famiglia. Una delle ipotesi è che si possa essere avventurato verso il corno grande perdendosi. Una regolare denuncia è stata presentata in questura. Le ricerche sono concentrate vicino Monte Camicia. Qui alcuni testimoni avrebbero raccontato di averlo visto per l'ultima volta. Il rifugio Franchetti ha diramato attraverso i social la foto e caratteristiche. Al momento della scomparsa il ragazzo indossava un pile tecnico di colore blu. Ha capelli lunghi e occhi castani, parla bene l'inglese. Lo stanno cercando anche squadre specializzate di Teramo. Parallelamente continuano le ricerche dell'uomo che si è allontanato da Rocca di Cambio, Marco Benzo, pensionato che è stato visto l'ultima volta il 29 luglio scorso in paese, prendere un caffè al bar prima di allontanarsi senza documenti. Avvistato nella strada che porta da Rocca all'Aquila potrebbe aver perso l'orientamento. Anche in questo caso proseguono serrate le ricerche per ritrovarlo.